Quando l'ha raggiunto, chi ha una concezione religiosa della vita? Commento. Ha una concezione religiosa della vita che ha i codici che gli permettono di percepirsi parte del tutto. Le religioni hanno la funzione di avviare l'individuo a questo stato di coscienza. Quando l'ha raggiunto, l'individuo non ha più bisogno delle religioni perché lui stesso è religione.